come la programma oggi è previsto raduno auto rally storiche e le esibizioni in pista auto sempre rally storiche abbiamo iniziato a passare il terreno a vedere com'è il percorso come il circuito questo andrà avanti diciamo per tutto il pomeriggio poi ci saranno delle esibizioni un po più serie precisiamo che sono solo esibizioni non ci sono gare ma solamente esibizioni intanto io do un ringraziamento a mafite la dottoressa il primo soccorso perché ha avuto